Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Di nuovo caos sulla ripresa dei campionati, non che prima vi fossero delle certezze, però si pensava che tra la fine di maggio e l'inizio di giugno si potesse tornare in campo. Ieri l'intervento di Giovanni Rezza, responsabile del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, ha cambiato il quadro. Rezza ha detto che per me, se dovessi dare un parere sulla ripresa del campionato, questo parere sarebbe negativo. Raimondo De Magistris, buonasera, ti coinvolgo su questo argomento. Sono parole pesanti quelle di Rezza, che hanno aperto un nuovo fronte e anche alcuni presidenti si sono accodati, tra questi il patron del Torino Cairo. Ciao Lorenzo, buonasera. Il tema è sempre lo stesso, da settimane e settimane, da quando il Palone ha smesso di rotolare, proseguire, non proseguire, riprendere, non riprendere questo campionato. Evidentemente ci sono delle posizioni discordanti. Le ultime dichiarazioni del professor Gianni Rezza, che è membro del Comitato Tecnico Scientifico, e quindi influenza direttamente il governo nelle sue decisioni sulla riapertura, hanno riacceso il dibattito. Rezza ieri prima ha fatto una battuta, ha detto io sono romanista e quindi fosse per me la finirei qui, ma insomma anche a TMV Radio poi ha precisato che trattasi solo evidentemente quella di una battuta. Però tornandosi ai temi seri, lui ha posto delle serie perplessità, dei seri dubbi sulla ripresa delle serie A scontato, che si riparta senza pubblico. In questo senso oggi il sottosegretario alla salute, Sandra Zampa, ci è andata anche giù dura, dicendo che fin quando non ci sarà il vaccino sarà impossibile pensare a una riapertura degli stadi. Sulla ripresa invece delle partite ha detto che servirà tutta la cautela possibile, tutte le prevenzioni che si possono attuare nelle situazioni di emergenza, affermo restando che se si torna a giocare ci sarà sicuramente un rischio contagio, che deve essere ridotto al minimo ma non potrà mai essere ridotto a zero. Questo è il grande tema. Contro queste dichiarazioni si sono scagliati tutti coloro che fanno parte del fronte del sì. Torniamo a giocare soprattutto la Lazio, che l'ha fatto tramite i suoi portavoce, prima di Aconale, poi De Martino che ha definito puerili le dichiarazioni del professor Rezza. Dalla sua parte invece il Brescia, Massimo Cellino, ma anche Urbano Cairo, che proprio nella serata di ieri ha detto che il professor Rezza ha ragione, prima la salute, non ci sono le condizioni per tornare a giocare. Insomma, la Serie A è di nuovo spaccata sul grande tema di questi giorni. Tornare o non tornare a giocare? Concludere o meno questo campionato. Da tener conto sempre alla posizione della federazione italiana gioco calcio, che farà di tutto per portare al termine questa stagione. Parlavamo prima di Rezza e delle sue dichiarazioni. Ebbene, il professor Rezza oggi è intervenuto a TNV Radio. Tornando sulla questione campionato, sentiamo che cosa ha detto. Nel momento certo no, perché siamo in una fase 1 di completo lockdown. Dopodiché è una cosa da valutare, nel senso che se ci fossero le condizioni, naturalmente però io penso, stiamo parlando di partite che si sarebbero a porte chiuse, perché io non credo che con certi... Certo che a porte chiuse, ma questo professore a porte chiuse, per forza? 50.000 persone aggregate si potrebbero non tollerare. A porte chiuse sarebbe da valutare. La quale è il punto? Che bisognerebbe, soprattutto se l'UEFA, io non sono esperto, però credo che se tutti gli altri paesi europei, di destra, andiamo avanti con le coppe, vabbè, sarebbe difficile che solo un paese dicesse no, non lo facciamo. Il problema qual è? È che è molto complicato per pensare a dei controlli. Nel senso che questi calciatori dovrebbero fare sostanzialmente dei tamponi, per evitare come è successo a Valencia e ad Alantra, se vi ricordate. Questo tipo di polemiche potrebbe anche... Sì, sì, ma già ci sono state, professore. Bisognerebbe fare un protocollo molto stretto, dopo di che... Io la vedo un po' dura. Bene, dopo aver sentito il professor Rezza, adesso ci colleghiamo con Antonio Di Gennaro, opinionista Rai. Buonasera, Antonio. Ciao, ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Ricordiamo che hai vinto anche uno scudetto con il Verona a metà degli anni Ottanta per quei pochi che non lo ricordassero. Ti chiedo subito che cosa pensi del nostro calcio in questo momento e che immagine sta dando il nostro calcio anche in relazione al fatto di tutte queste battaglie tra i vari club che ci sono sull'opportunità di riprendere il campionato? Il calcio, come del resto di tutte le altre attività, industrie che ovviamente stanno patendo questa situazione veramente non prevedibile, inaspettata, è un virus così invisibile e ci ha messo al tapeto tutto a livello mondiale. Quindi il calcio sta avendo una profonda riflessione di come magari si potrà ripartire, come e quando, perché giustamente tutti ora dicono i giocatori, l'aspetto fisico, le società ovviamente si dovranno ritrovare, dovranno ovviamente cercare anche le autorità preposte di trovare degli accordi, di avere il buon senso, di trovare un'unica coesione nel valutare, nel come riprendere e quando e il come non si sa perché ovviamente si naviga a vista tutti, stiamo alle direttive dei virologhi, infettirologhi, ovviamente persone che lavorano ovviamente i scienziati che ne sanno più di noi, però anche lì c'è magari un attimino ancora di non chiarezza e la chiarezza diventa fondamentale e anche il rapporto che ci deve essere tra quelli che ovviamente della sanità, di queste persone che ovviamente hanno indicazioni più da vicino, che sono del mestiere e anche diciamo quelli che tutelano il calcio, ovviamente delle istituzioni, c'è stato degli scontri, noi ieri abbiamo visto l'etto tra Gravina e lo stesso Rezza e ovviamente bisogna trovare una unità di intenti come del resto dal punto di vista delle istituzioni, ecco la demagogia e gli scontri secondo me in questo momento ancora di più non servono a niente. Ecco la FIGC, il ruolo della FIGC fino a questo momento come è stato svolto anche Gravina, come lo giudichi proprio per come si è mosso? Ma si è attivato secondo me bene, attenendosi ovviamente a quelle appunto le disposizioni che sono, che dipendono appunto come dicevamo prima da chi ne capisce più di noi, ha messo a disposizione Coverciano per diciamo gli infermieri, per tutte le situazioni che sono state ovviamente per l'emergenza che è avvenuta, quindi a disposizione del centro tecnico Coverciano a Firenze alla problematica che si è ovviamente ingigantita man mano che insomma passavano i giorni, quindi credo sia stato un messaggio importante di partecipazione, di condivisione, per questo serve ancora di più che ci siano queste diciamo questa appunto collaborazione da ambo le parti, di chi ovviamente ci gestisce il calcio e chi ovviamente gestisce questa emergenza che ovviamente non so quanto potrà finire perché si viaggia a 15 giorni, a settimane, a volte a giorni. L'ospicio è che come hanno preventivato che si possa ripartire a giocare a fine giugno oppure ai primi di giugno, magari anche con un campionato abbastanza così con partite molto ravvicinate magari si potrebbe finire, però non lo possiamo dire adesso, sono tutte situazioni che sperano soprattutto le società in questo caso della Serie A perché sappiamo che la Serie A traina tutto, però non si potrà, anche lì ci sono dei pareri contrastanti, alcuni presidenti vorrebbero, altri no. Ecco, secondo me queste, quando ci saranno le riunioni in questo caso dovrà esserci proprio una condivisione totale di tutte le autorità preposte perché è un fatto, ripeto, che non tutti potevamo immaginare così grave. Si pensava fosse un'influenza, magari qualcosa di una banale influenza, un pochino di più dell'influenza invece è un virus che ha messo a tappeto il mondo, vuol dire che a volte anche la tecnologia, l'innovazione, l'andare troppo forte magari non serva a niente perché siamo ridotti adesso a sperare di poter magari ricominciare un qualcosa che a noi ovviamente premio perché lavoriamo nel mestiere, un qualcosa che potrà riprendere primi di giugno, fine giugno. Come si può dirlo adesso, capito? La speranza è quella. La speranza è anche per i calciatori, ma poi i calciatori l'aspetto fisico lo recupereranno e l'aspetto mentale nessuno ci ha mai pensato. Come potranno ripartire sotto l'aspetto mentale? Ecco, da giocatore invece come ti sentiresti di fronte ad un'eventuale ripresa del campionato? Si parla di screening ad hoc per i calciatori e anche della permanenza laddove sia possibile nei centri sportivi ad oltranza? Eh, ma il protocollo è da quello che si evince, quello che si legge nei giornali, da quello che propongono giustamente i medici, è un protocollo importante perché poi chi ha contratto il virus dovrà fare gli atteggiamenti ancora più forti, più attenti, vedi anche TAC oppure esami sireologici, radiologi, TAC e quant'altro perché ovviamente il problema è serio e a livello mentale come giocatore non lo so perché sinceramente a livello fisico due o tre settimane la trovi la condizione anche perché sì, si allenano a casa ma l'allenamento a casa è relativo, cioè l'elasticità muscolare non la puoi sviluppare nelle proprie mure amiche, devi andare sul campo, devi valutare e rapportarlo ovviamente con i compagni. E' lì che ecco dicevo l'aspetto mentale, come reagiranno i carciatori, perché insomma bisogna stare, bisognerà stare molto attenti e poi il protocollo sanitario per quanto riguarda la sanificazione dei posti dove andranno ad allenarsi giornalmente, quotidianamente, insomma è una cosa veramente anomala, complicata, però se questo viene fatto ovviamente nel massimo dell'attenzione, beh la speranza è quella, io viviamo di speranza caro Lorenzo, un po' tutti è così e noi che ci lavoriamo e i giocatori ancora di più che saranno poi gli artefici principali. Antonio grazie mille per il tuo intervento, buon proseguimento di serata a te, noi continuiamo la nostra trasmissione. Grazie a voi, ciao ciao. Grazie, grazie ad Antonio Di Gennaro, noi adesso andiamo a collegarci con Lorenzo Di Benedetto per parlare di mercato, in particolare del Inter. Ieri parlavamo di Lautaro Martinez e del Barcellona, oggi la Gazzetta dello Sport ipotizza uno scambio con Griezmann e allora ti chiedo che cosa pensi di questa soluzione, soprattutto come sarebbe l'Inter con il francese? Sì ciao Lorenzo, buonasera a tutti, continuo a farsi largo l'ipotesi che Lautaro Martinez possa lasciare l'Inter al termine di questa stagione perché il Barcellona continua a puntare sul Toro, Leo Messi già da mesi ha consigliato l'acquisto del suo connazionale al club Blaugrana e nelle ultime ore si sta continuando a parlare lungo e largo di questa possibilità sia in Italia che in Spagna. L'ultima idea che può essere venuta al Barcellona è quella di inserire Antoine Griezmann nella trattativa per arrivare a Lautaro Martinez che ricordiamo che ha una clausola da 111 milioni di euro valida solo per l'estero e valida dal primo al 15 luglio 2020, chiaramente potrebbe doversi spostare anche questa data a causa dell'allungarsi della stagione in corso. Però torniamo a parlare, Antoine Griezmann possibile contropartita per Lautaro Martinez e come cambierebbe l'Inter? Di sicuro non sarebbe un vantaggio per i nerazzurri dal punto di vista della carta d'identità perché 29 anni il francese, 22 il giocatore argentino e per questo però l'Inter non è detto che ci debba rimettere per forza perché dal punto di vista dell'esperienza sicuramente Griezmann darebbe un qualcosa in più alla squadra di Antonio Conte e cambierebbe anche il gioco. Addio alla profondità, addio ai contropiedi però benvenuta fantasia, potremmo parlare così perché il petit diable ovvero Antoine Griezmann porterebbe tanta qualità, tanta fantasia all'Inter che sicuramente vedrebbe l'addio di Lautaro Martinez un po' meno amaro da buttare giù qualora dovesse arrivare Griezmann. Tutto però è ancora agli albori, staremo a vedere fra qualche settimana che cosa si muoverà nella trattativa tra il Barcellona e l'Inter per portare Lautaro Martinez in Spagna. Grazie, torno da Raimondo De Magistris per parlare ancora di mercato, in particolare di Insigne. Dopo un anno si è consumato l'addio con Raiola, perché a tuo parere questo rapporto non è decollato e a questo punto Insigne può legarsi a vita al Napoli? Rieccomi Lorenzo per parlare di una delle notizie più inattese dell'ultimo fine settimana, il divorzio tra Lorenzo Insigne e il suo procuratore Mino Raiola. Un rapporto durato poco più di un anno che è letteralmente deflagrato la scorsa settimana alla base di ciò delle pendenze che Insigne ha con la sua vecchia agenzia di procuratori, quella che rappresentava Insigne prima dell'irruzione di Mino Raiola, una causa che Insigne ha perso nei confronti dei suoi ex procuratori e proprio sui soldi da versare ad essi si è scatenato il dibattito della rottura tra Insigne e Mino Raiola. Ci sono quindi dei motivi economici alla base di questa rottura, ci sono anche dei motivi sportivi perché quando Insigne si affidò a Raiola probabilmente pensava allora in un salto, in un top club europeo, cosa che non è avvenuto la scorsa estate. Da allora tanto è cambiato perché la ricerca di Raiola è proseguita, ben consapevole che le richieste dell'Apoli erano e sono forse troppo alte per quello che è il reale valore di Insigne. Ma lo stesso Insigne sembra aver cambiato idea. Nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, l'ammutinamento di fatto l'ha trasformato davvero nel capitano del Napoli e adesso Insigne sta pensando addirittura di legarsi a vita al Napoli e questa forse è stata una delle cause scatenanti che ha portato Raiola ad allontanarsi da Lorenzo Insigne. Perché dallo scorso fine settimana, dobbiamo ribadire la notizia, Raiola non rappresenta più Lorenzo Insigne, che a questo punto potrebbe legarsi a vita al Napoli, almeno con un contratto fino al 2025. Bene, grazie. Adesso spostiamo l'obiettivo su un altro tema interessante che abbiamo trattato anche nei giorni scorsi, quello della possibile ripresa del campionato senza VAR, tutto questo per evitare possibili contagi che avverrebbero nella stessa sala VAR. Per dibattere di questo tema abbiamo in collegamento con noi Fabio Baldas, ex arbitro, ex designatore. Buonasera e che cosa pensa di questa soluzione? Buonasera, ma rimango dell'idea che sarebbe meglio non riprendere per problemi di sicurezza, ma questo è un discorso mio personale. Per ciò che concerne invece riprenderlo senza l'ausilio per gli arbitri del VAR e credo sarà comunque qualcosa di diverso. La prima parte del campionato è stata fatta col VAR e gli arbitri hanno usufruito di questo supporto che gli ha permesso loro anche di correggere alcuni errori che inevitabilmente gli arbitri da sempre commettono. Fare una seconda parte senza il VAR sicuramente sarà un arbitraggio diverso. Gli arbitri dovranno cercare di sbagliare pochissimo perché non avranno più l'aiuto del mezzo meccanico con il quale ormai erano abituati a convivere. Staremo a vedere. Che idea si è fatto invece sulla possibilità di allargare a cinque il numero delle sostituzioni in una partita considerato che si giocherà o si giocherebbe molto spesso? Per quanto riguarda le cinque sostituzioni io non credo ci saranno grosse differenze visto che tutti possono farlo. Credo che l'unica differenza potrebbe riguardare a favore naturalmente di quelle società che hanno la panchina molto più lunga e soprattutto molto più consistente dal punto di vista tecnico. però credo che tutto sommato se le società hanno aderito a questo tipo di accordo va bene tutti quanti usufruiranno di cinque sostituzioni e chi ha più qualità sicuramente ne trarrà più vantaggio. Bene grazie avete visto Fabio Baldas senza baffi nuovo look per lui adesso però facciamo un punto della situazione sulla Juventus c'è già pronto Giovanni Albanese il nostro corrispondente sui bianconeri c'è grande curiosità su Cristiano Ronaldo grande attesa per il suo rientro in Italia. Sì ciao Lorenzo Cristiano Ronaldo è a Madeira si allena e non vede l'ora di tornare in campo con la Juventus il calciatore tra l'altro nei prossimi giorni potrebbe decidere di sua spontanea volontà di rientrare all'interno della residenza torinese affinché possa essere presente al primo allenamento in programma alla continassa agli ordini di Maurizio Sarri se effettivamente dal prossimo 4 maggio potranno riprendere le attività rientrando dall'estero così come gli altri calciatori Cristiano Ronaldo dovrà osservare 14 giorni di isolamento in attività all'interno della propria abitazione anche Paolo Di Bala in attesa dell'esito dell'ultimo test tampone effettuato nei giorni scorsi per capire se è ancora positivo al Covid-19 dopo i sintomi dei primi giorni Paolo Di Bala adesso sta bene insieme a Rogani e Matuidi spera di poter riprendere al più presto l'attività così come tutti gli altri compagni che lavorano in casa attraverso le indicazioni dei preparatori che ogni mattina mandano una mail col programma del giorno ovviamente la speranza di tutti è quella di tornare in campo tutti insieme il prima possibile e poter vincere sul campo lo scudetto ringrazio Giovanni Albanese siamo arrivati così alla conclusione del nostro TMV News come sempre vi ricordo l'appuntamento di domani grazie per averci seguito buon proseguimento di serata a tutti